Buonasera a tutti! Stasera sono un po' stupida Mi sento stupida in confronto a loro due No scherzo dai, però ora vedremo il perché dico queste cavolate Buonasera Stasera parleremo di questo caso riguardante queste due persone di nome Nathan Leopold e Richard Loeb che mi ha appassionato leggendo questo libro che tratta di più coppie assassine tutte un po' lontane nel tempo ma in particolare questo caso mi ha colpito più di tutti perché è incentrato molto sulle neuro atipicità ovviamente è un po' il topic del mio canale Certo, ci manca solo che fai un bel casino Ah ok, ok, non vorrei triggerarti stasera è una storia un po' creepy e non gliela fare sentire aspetto, cioè non lo so insomma vedi tu comunque la storia ovviamente non è una storia felice però è una storia che come dicevo prima tratta tantissime tematiche va a toccare veramente tanti punti sia riguardanti le neurotipicità sia riguardanti la criminologia la psicologia nonostante fossero gli anni venti ma anche la filosofia e anche la diciamo la legislatura perché è un caso che fa da spartiacque a tantissime di queste tematiche meno male che c'è cartoni detective io direi che possiamo anche partire andando nel nel fulcro della storia partendo con la presentazione di di questi personaggi di questi due ragazzi perché quando loro compiranno il crimine che compiranno perché ovviamente sappiamo che qualcosa faranno sono dei ragazzi di 18 e 19 anni Nathan Leopold mi prendo gli appunti per dare un occhio alle date è nato nel 1904 a Chicago mentre Richard è nato nel 1905 siamo a Chicago quindi questo è il primo caso che trattiamo di oltreoceano perché per ora ho trattato sempre i casi italiani e fin da subito Nathan Nathan Leopold si distingue da tutti i suoi coetanei perché ha uno sviluppo veramente molto atipico infatti Nathan dirà la sua prima parola a soltanto quattro mesi stupendo qualsiasi governante e persona intorno alla famiglia fin da subito si distingue anche per il suo carattere distaccato e anche asociale Nathan aveva un sacco di domande alle quali le persone intorno a lui non sapevano rispondere in maniera adeguata soprattutto inerenti alla morte alla nascita e al ciclo della vita e questa è una cosa che penso possa risuonare a tante persone Nathan aveva un cui di 210 in scala Stanford-Benet quindi parliamo più o meno penso nella scala quella che utilizziamo noi comunemente che si differenzi di poco però parliamo veramente di plus dotazioni estreme la sua intelligenza era ovviamente globale nel senso che era bravo in tutto ma era soprattutto relativa alle maniere umanistiche alle materie umanistiche quindi a lui interessava principalmente la filosofia le lettere ma aveva anche una passione enorme per l'ornitologia e quindi lo studio degli uccelli ma anche della botanica quindi era un appassionato anche della classificazione delle piante e degli uccelli fin da subito come dicevamo il suo carattere si differenzia molto da quello degli altri bambini sembrava come si suol dire come si sente dire a molte persone più sdotate non essere mai stato un bambino sembrava già un adulto era molto permaloso e irritabile e aveva un disprezzo profondo per tutte le persone intorno a sé e non fingeva che non fosse così cioè lo mostrava apertamente affiancata a questa sua atipicità cognitiva troviamo anche delle difficoltà a livello di salute perché Nathan aveva dei problemi a livello di tiroide quindi soffriva di ipertiroidismo e aveva anche un aspetto fisico veramente molto particolare perché Nathan era molto basso curvo e con degli occhi molto sporgenti ed era molto scuro cioè scuro tipo di capelli e di carnagione Nathan nasce in questa famiglia multimilionaria ok quindi erano ebrei che avevano fatto fortuna trasferendosi dalla Germania all'America suo padre Nathan Leopold anche lui si chiamava Nathan Leopold perché Nathan si chiamava Nathan Junior era una persona un magnate di trasporti e aveva con Nathan un rapporto di quelli che ci possiamo immaginare al tempo tra un padre e un figlio quindi molto distaccato nonostante il padre fosse molto orgoglioso dei successi del figlio soprattutto quelli accademici Nathan era il più piccolo dei figli della famiglia Leopold e veniva per questo denominato Babe come un diminutivo carino perché era il più piccolo dei quattro fratelli la sua famiglia era una famiglia molto formale utilizzava i soldi per compensare l'aridità affettiva e Nathan come molti bambini dell'epoca bambini ricchi cresce a contatto con la governante al posto della madre e una governante che lo inizia a delle pratiche sadomaso mi viene da dire BDSM anche se non si capisce bene la natura specifica di queste pratiche però sicuramente si instaura tra lui e questa governante un rapporto malsano contornato da abusi sessuali la madre di Nathan muore dandolo alla luce o poco dopo a causa di una nefrite e quindi Nathan cresce ancora di più con questo senso di colpa enorme e con questo grande dilemma sulla vita e sulla morte e forse anche con questa dicotomia molto presente tra queste due condizioni alle quali le persone intorno non sapevano dare una risposta perché la governante risponde a Nathan che i figli nascono tramite la cicogna mentre il padre dice a Nathan che i figli si comprano e questi iniziano a instaurare proprio i primi disagi evidenti in Nathan perché non riusciva a capire quale fosse la verità e secondo alcuni che poi studiarono il caso è proprio da questo che deriva la sua passione verso gli uccelli e il mito anche della cicogna e della nascita per capire da solo e darsi delle spiegazioni razionali alle cose che succedevano praticamente scusate mi ho sbagliato la madre non muore quando nasce questo lo dicono nel libro che il libro è un po' romanzato la madre muore quando lui si diploma però inizia a stare male da quando comunque lo dà alla luce quindi lui si sente sempre in colpa di questa cosa e quando muore la madre il padre si ritrova ancora più spiazzato è in difficoltà nell'interagire con questo figlio adolescente e quindi decide di compensare questa sua incapacità genitoriale ed educativa fornendo al figlio 125 dollari a settimana che negli anni 20 perché lui si diploma a 18 anni è nato nel 1904 era il 22 cioè immaginate che praticamente era una sorta di stipendio cioè molto più di uno stipendio di tantissime persone e gli compra anche un'auto di lusso e gli dà anche 3000 dollari per fare un viaggio in Europa si sente in colpa uguale lo fanno sentire in colpa questo non lo so perché non voglio fare troppi viaggi cioè volipindarici voglio cercare di attenermi alle informazioni che ho poi possiamo magari fare delle elucubrazioni però intanto mi piacerebbe riuscire a darvi i fatti perché ovviamente ripeto è un caso molto vecchio non abbiamo tantissime informazioni soprattutto immaginate come erano al tempo le famiglie eccetera però un bel po' sì perché comunque sia un caso molto famoso e possiamo ovviamente farci delle idee delle ipotesi quando muore la madre la zia zia birdie si trasferisce a casa dei leopold per aiutare la la famiglia nelle faccende domestiche essendo che il padre era sempre fuori al lavoro ed è in questo periodo quando la madre muore che Nathan da essere profondamente religioso si distacca completamente dalla religione e affronta un periodo di isolamento totale ancora più invasivo e prepotente di quello che lo aveva caratterizzato per tutta la sua vita praticamente nell'anno in cui muore sua madre Nathan diventa un convinto ateo da essere una persona molto religiosa diventa proprio ateo stretto ma nonostante il suo ateismo continua a raffigurare dentro di sé sua madre come la madonna cioè lui rappresentava sua madre come la madonna diciamo che la la vedeva in questo modo è indicativo anche del fatto che Nathan ciao rei ciao buonasera Nathan odiava profondamente il genere femminile allora intanto odiava come abbiamo detto tutte le persone però in maniera ancora più potente odiava le donne uno delle motivazioni che verrà poi riscontrata per il quale lui odiava il genere femminile è proprio il rapporto che aveva con questa governante ma un altro motivo che viene individuato è il fatto che Nathan viene iscritto a una scuola femminile e questo è una decisione che prenderà sua madre proprio al fine di aiutarlo nella socializzazione perché lo vedeva troppo sensibile e delicato per frequentare una scuola pubblica e mista e quindi lo fa frequentare questa scuola femminile cosa che però lo fa al contrario chiudere ancora di più in se stesso e assolutamente non gli fornisce alcuna skill sociale e Nathan muore sua madre diventa ateo e si chiude in casa in un isolamento totale ancora più pesante di quello che aveva caratterizzato tutta la sua vita ed è più o meno in questo periodo che Nathan comunque come abbiamo visto una persona con un cui altissimo con delle passioni molto ristrette una persona isolata socialmente che non riusciva a socializzare che non aveva nemmeno modelli di riferimento che fossero alla sua altezza passatemi il termine più o meno sui 16 anni incontra all'università Richard Loeb un altro ragazzo plus dotato anche se non ai livelli di Nathan che era veramente forse visto come una delle persone più intelligenti a cui si era mai stato misurato il cui Richard aveva anche lui un cui molto molto importante però insomma appunto non era ai livelli di Nathan ma al contrario di Nathan era una persona che aveva molto successo a livello sociale era una persona carismatica molto piacente anche a livello fisico quindi era un bel ragazzo e era molto popolare come Nathan era un ragazzo che si era diplomato prima del tempo quindi era visto anche lui come un ragazzo prodigio ma a differenza di Nathan che stava antipatico a tutti e voleva essere antipatico a tutti almeno così quello era quello che dimostrava Richard detto Dickie era proprio l'anima della festa era anche lui un ragazzo multimilionario perché suo padre era se non il fondatore o comunque il proprietario della catena SERS anche loro una famiglia ebrea e Nathan quando conosce Richard praticamente ha un colpo di fulmine a livello proprio anche di ispirazione e lo prende proprio a modello in tutto e per tutto si instaura questa amicizia super disfunzionale quant'è canonica questa copiata il solis si si tra l'altro mi rivedo un sacco in tutto questo so che sembra un po' egocentrico da dire però mi rivedo tantissimo cioè sono state un po' tutte e due in vari casi parliamo un attimo di Richard come ho detto all'inizio ha un anno meno di Nathan anche lui vive nel quartiere più ricco di Chicago non lontano da Nathan e anche lui ha frequentato l'Harvard School e l'università di Chicago la sua governante che lo ha cresciuto al contrario di quella di Nathan che lo lasciava molto libero di fare quello che voleva nonostante poi abbiamo visto che lo abusasse in altri modi quella di Dicchi era una governante veramente molto molto severa che stava addosso tantissimo al piccolo Richard proprio perché era molto intelligente quindi la famiglia si aspettava da lui dei risultati ottimali nella vita così come anche dai suoi fratelli Richard quindi fin da piccolo impara a mentire e usa la menzogna e la utilizzerà per tutto il corso della sua vita per uscire dalle situazioni che non lo aggradavano diceva veramente tantissime bugie senza nessuna remora praticamente anche lui aveva tantissimi soldi a disposizione perché suo padre gli forniva 250 dollari a settimana che è il doppio di uno stipendio medio a quell'epoca di una di una persona in America e anche Dicchi ha delle atipicità a livello di salute nel suo caso si trattava di una balbuzie e anche di vari tic lampadine aveva ma anche molti pensieri suicidari nonostante la sua verve apparentemente più positiva di quella di Nathan aveva invece dei gravi episodi depressivi che lo portavano spesso a pensare di togliersi la vita si cavolo ma soltanto anche adesso cioè se ti destra 250 alla settimana per non fare un cazzo vabbè anche lui si diploma prestissimo e come Nathan in filosofia e a differenza di Nathan però lui viene preso nella confraternita FI-BETA-K che era una delle non so se lo è ancora però al tempo era un'associazione accademica nazionale praticamente delle persone con più talento una specie di mensa universitaria confraternita a differenza di Nathan che era appassionato di botanica e di ornitologia anche di filosofia però questi erano i suoi interessi diciamo al di là degli studi Richard era uno di noi perché era appassionato di crime veramente un appassionato di investigazioni di polizieschi e il suo sogno era appunto quello di essere un detective diciamo che giocava spesso al detective anche nel vero senso della parola cioè tipo che non era raro trovarlo per strada che faceva appostamenti e fingeva di parlare con dei complici e si divertiva così quando Nathan vede Richard per la prima volta come abbiamo detto si infatua di lui non solo a livello romantico ma proprio a livello più profondo Richard era tutto quello che Nathan non riusciva a essere e dava uno scopo a Nathan era tutto quello che gli serviva che gli mancava era diciamo il perno su cui ruoteranno poi tutte le ossessioni e gli interessi di Nathan entrambi si appassionano alla teoria del superomismo di Nietzsche non so se sapete di cosa si tratta ve lo provo a spiegare un po' a grandi linee ovviamente se dico cavolate correggetemi si tratta di una filosofia riguardante il concetto di un concetto di uomo moderno diciamo che a quel tempo era visto come un uomo del futuro che fosse esente e si fosse districato da tutti i condizionamenti soprattutto cristiani ma anche proprio sociali e morali ok una specie di di condizione al di là del bene e del male un uomo che è a contatto con le sue pulsioni più profonde che non cerca di combatterle ma che le abbraccia e che praticamente si comporta come vuole ripeto al di là del banale concetto di bene e male l'ho detto proprio così sintetizzando ovviamente il concetto è molto più lungo però è per darvi intanto un'idea perché il niche in questo concetto comunque sia era un concetto filosofico non doveva essere trasportato nella realtà almeno questo è quello che ho capito io mentre questo concetto viene abbracciato non solo da Nathan e da Richard ma in futuro verrà abbracciato anche dal nazismo perché questa filosofia verrà appunto utilizzata per giustificare quello che succederà vent'anni dopo perché i protagonisti di questa storia come poi succederà insomma ai nazisti utilizzeranno questa filosofia per razionalizzare quello che compiranno questa è l'idea che non solo io mi sono fatta e chi studierà questo caso quindi che non sia questa la causa ovviamente del delitto ma che venga utilizzata questa filosofia proprio per giustificare e razionalizzare un qualcosa che invece ha radici più profonde così come anche nel nazismo i due si innamorano di questa teoria e una frase che abbracciano con molto calore di questa di questa insomma teoria è proprio il fatto che il superuomo non sbaglia mai se non quando compie degli errori quindi Nathan idealizza Richard come proprio il superuomo per eccellenza perché Richard aveva questo atteggiamento come abbiamo detto prima molto sprezzante era anche menzognero era molto bugiardo e usciva con tantissime ragazze diverse faceva quello che gli pareva nonostante poi non non riuscisse ad avere rapporti sessuali con loro non riuscisse o non volesse li fingeva però e aveva comunque era riuscito a farsi dare la nomea di superfemmine perché comunque sia lui usciva effettivamente con tante ragazze anche se poi non arrivava al dunque anche se ovviamente non è che sia obbligatorio arrivare lì e poi scopriremo che Richard è omosessuale e l'idea che mi sono fatta è che Nathan al contrario di Richard non è l'idea che mi sono fatta solo io se l'è fatta anche Meyer Levin che è la persona che ha scritto questo libro sul quale mi sono basata principalmente per raccontarvi questa storia è che Nathan invece sia proprio pansessuale mentre Richard sia omosessuale e forse anche asessuale anche se al tempo ovviamente non si sapeva cosa fosse sì sì ti funziona benissimo e perché Nathan in realtà prima di Richard sì aveva avuto in realtà molte fantasie riguardanti sempre il BDSM che comprendevano suo fratello maggiore Red Flag l'animatore del campeggio e poi quando conosce Richard sostituisce queste due figure a Richard con Richard anche se ha molte fantasie anche con donne soprattutto riguardanti degli stupri le fantasie sessuali di Nathan vengono stimolate da un manifesto di guerra raffigurante proprio una violenza sessuale un altro fatto molto atipico riguardante la personalità di Nathan è proprio il fatto che lui fosse sviluppato sessualmente molto molto precocemente rispetto ai ragazzi della sua età in una maniera molto disfunzionale era proprio come iper sessuale rendetevi conto di quanto siano complementari queste due figure troviamo Nathan che è una persona timida isolata socialmente e Richard che invece è molto esuberante Nathan che è iper sessuale Richard che è quasi comunque è nello spettro asessuale questa è l'idea che mi sono fatta io Nathan è comunque molto intelligente Richard è lo stesso anche se Richard ha un QI se vogliamo un po' più funzionale alla vita non è stratosferico come quella di Nathan e infatti Richard funziona di più a livello sociale poi le governanti che hanno sono proprio anche loro dicotomiche nei loro comportamenti e infatti entrambi sviluppano dei disturbi e anche delle condizioni quasi opposte perché nelle fantasie sessuali di Nathan Nathan si vedeva sempre come uno schiavo quindi lui era un sub a livello di BDSM a lui piaceva essere dominato ma era sempre uno schiavo molto ricco e molto non so come definirlo di una condizione sociale no perché era uno schiavo aveva sempre delle caratteristiche positive che lo ponevano al di sopra degli altri schiavi ok mentre nelle fantasie sessuali di Richard Richard si vedeva al contrario come un re come un dittatore come un comandante ma sempre al contrario un re in decadenza un comandante in difficoltà quindi vediamo proprio come anche le loro pulsioni sessuali siano complementari e viene da sé immaginare come si instauri fra loro un rapporto veramente molto tossico che vedeva in superficie Richard come predominante nei confronti di Nathan perché ovviamente Nathan pendeva più dalle labbra di Richard e Richard lo sapeva e sapeva come sfruttare questo suo ascendente nei confronti di Nathan ma a livello sessuale era Nathan che dominava Richard quindi vediamo veramente raga come questa cosa di dominazione e di sottomissione vada a intersecarsi proprio come una sorta di puzzle è veramente super interessante e questi rapporti sessuali iniziano diciamo da non troppo tardi da quando si conoscono e acquisiscono a un certo punto anche un valore proprio contrattuale perché i due stabiliscono proprio un patto secondo il quale se Richard si fosse prestato a questi incontri sessuali con Nathan Nathan sarebbe diventato il suo complice in tutto quello che avrebbe fatto Richard perché Richard a differenza di Nathan che era sempre stato un ragazzo molto lisio al dovere e anche a scuola aveva ottimi voti eccetera Richard al contrario ha un profilo che troviamo spesso anche per quanto riguarda la prosodazione e che va a identificarsi poi anche in una sorta di opposizione inizia quindi a andare male a scuola quasi appositamente e a compiere anche dei furti crimini vari anche vandalismo e proprio a scopo così non aveva certo bisogno di rubare come abbiamo visto appiccava dei fuochi cercava proprio come se cercasse dell'adrenalina no no ok praticamente il padre di di Nathan come abbiamo visto gli aveva regalato anche questi 3.000 dollari perché lui partisse per andare a fare un viaggio in Europa anche perché la storia fra i due verrà fuori verrà fuori perché i due erano sempre molto vicini e in un'occasione passano anche una vacanza insieme anche ad un altro studente un loro collega universitario perché loro come dicevamo erano anticipatari insomma erano sì insomma studiavano all'università nonostante fossero molto giovani e durante questo soggiorno il terzo ragazzo andandoli a svegliare si accorge dei loro atteggiamenti sessuali e loro accortisi di questa cosa se la prendono insomma si preoccupano e c'è anche questa ipotesi che non è mai stata verificata che loro avessero provato anche a uccidere questo ragazzo facendolo cadere da questa canoa mentre facevano questa gita nel fiume questo ragazzo li sputtanerà li sputtanerà ai quattro venti e manderà delle lettere all'università e anche ai genitori di entrambi e anche i fratelli quindi succederà un bel patatrack anche se in realtà non così tanto come ci si potrebbe aspettare perché il tabù era così forte che le famiglie in realtà non sapevano nemmeno come affrontare l'argomento e quindi Nathan ne parlerà col fratello e di Richard abbiamo meno informazioni però comunque sia il padre di Nathan voleva assolutamente che si distanziasse da Richard e ovviamente lo stesso valeva anche per il padre di Richard vi dicevo che la stragrande maggioranza delle informazioni che vi sto raccontando l'ho presa da questo libro che si intitola Compulsion ed è stato scritto da Meyer Levine che era un collega di Nathan e di Richard che aveva studiato con loro era proprio un compagno di classe di corso sia ad Harvard che all'università di Chicago e che ha vissuto diciamo in prima persona tutto quello che poi vi raccontare però nelle prossime puntate e lo ha vissuto in veste di giornalista e come dicevo anche coetaneo e compagno di entrambi in più lui stesso è anche lui ebreo di Chicago e quindi si è sentito molto toccato da questa vicenda comprensibilmente e ha deciso di scrivere questo libro che tra l'altro anche questo libro è un precursore perché è uno dei il primo romanzo non fiction perché è praticamente riadattato alla vera storia ma non è cambiato è interpretato e vengono cambiati i nomi dei protagonisti perché Nathan viene chiamato Jude e Richie viene chiamato Artie però come spiega Meyer che in questo romanzo si chiama Sid ed è un giornalista lui non è che si inventa cose di sana pianta semplicemente racconta le cose come sono avvenute e poi alcune cose le interpreta però verosimilmente non so come altro spiegarlo alcuni dettagli sono un po' cambiati però è veramente molto molto bello la prima parte parla di loro due e del delitto e la seconda parte parla tutta del processo e delle perizie psichiatriche che verranno fatte ai due e anche questa è una grossa novità diciamo l'attenzione che verrà riservata alla loro psiche vengono chiamati ancora alienisti ma le cose che vengono dette e che vengono fuori sono veramente molto interessanti e anche moderne secondo me comunque sia come vi stavo dicendo in questo libro si vede molto bene si capisce il rapporto di sudditanza che Nathan aveva nei confronti di Richard e di come letteralmente pendesse dalle labbra di Richard ma come abbiamo visto poi a livello intimo e sessuale questi ruoli switchavano Ricci come vi stavo dicendo aveva questa abitudine di compiere vari atti criminali e insomma di vandalismo uno di questi fu proprio ai danni della confraternita Phi Beta K e praticamente le spaccò tutta l'area comune e rubò questa macchina da scrivere ruba questa macchina da scrivere sempre con l'aiuto di Nathan e niente se la tiene per sé una macchina portatile come possiamo immaginare i due litigavano spesso litigavano ma facevano anche pace molto velocemente era a tutti gli effetti un rapporto tossico veramente molto tossico e Nathan era anche super geloso di Richard che come abbiamo visto invece era sempre circondato da varie ragazze e aveva una vita sociale che esulava anche da quella di Nathan mentre Nathan faceva ruotare il suo mondo sociale esclusivamente intorno a Richard anche se in questo libro non si ha non sono riuscita a capire in realtà se sia vero ma secondo me si poco prima del patatrack Nathan aveva iniziato a conoscere una ragazza e in questo libro infatti conosciamo Nathan e Richard attraverso gli occhi di queste due ragazze che sono innamorate in modi diversi di loro e quindi questo libro diciamo che riesce a umanizzare questi due protagonisti tramite lo sguardo accondiscendente e tenero di queste due donne molto diverse fra loro come vi dicevo Richard aveva ottenuto la totale complicità di Nathan nel fare questi crimini e in generale nel delinquere ma il sogno di Richard era proprio quello di compiere il delitto perfetto come abbiamo detto prima era appassionatissimo di crime e un'altra frase che vi ho citato riguardante il superomismo cita proprio il fatto di non fare errore e quindi possiamo ricollegarlo anche al delitto perfetto e iniziano quindi due a premeditare questo delitto perfetto Nathan aveva il desiderio di violentare e uccidere una ragazza ma Richard assolutamente no voleva uccidere una persona di sesso maschile possibilmente più giovane di loro anche per essere sicuro di poterla sopraffare fisicamente l'idea di Richard era in realtà quella di rapire e uccidere suo fratello suo fratello minore verso il quale provava una forte gelosia ma poi verrà insomma desisterà questa idea ora mi voglio fermare qui perché stasera non voglio arrivare a parlare del delitto in sé per sé perché del delitto voglio parlarvi la prossima volta però mi piacerebbe appunto parlare insieme a voi di queste due personalità queste due personalità che poi verranno diciamo definite insomma facenti parte della cosiddetta follia nel come si dice nel libro ciao detective di nuovo sei tornata nel libro vengono chiamati anche durante il processo in maniera offensiva invertiti perché ovviamente la loro omosessualità verrà resa nota e creerà molto scalpore ah un'altra particolarità che differenzia Nathan da Richard è che Nathan era super schizzignoso odiava il sangue odiava il contatto fisico odiava la sporcizia mentre Richard era molto più cacciarone addirittura aveva anche contratto delle malattie venere perché era solito andare in vari bordelli cosa che faceva anche con Nathan Nathan si faceva un po' trascinare ma Richard come abbiamo visto in realtà non riusciva quasi mai a diciamo completare l'atto penetrativo Richard era ah si ho finito di fare la parrucchiera in provianza mi viene di capelli tra la frase ciao detective ciao ciao allora penso che in un periodo storico simile essere omosessuali fossi quasi la causa di ogni devianza anche morale e criminale si qui poi vediamo proprio anche una plus dotazione assolutamente incontrollata e un una disponibilità economica anche lì incontrollata no che secondo me ha avvalorato insomma è non riesco a parlare ha contribuito a quello che poi succederà e quindi Richard è fissato appunto con le cose splatter con i crimini eccetera mentre Nathan no anche se Nathan cacciava cacciava uccelli per studiarli infatti nella camera di Nathan c'erano tantissimi uccelli impagliati tantissimi e pensate che questo caso ha ispirato il film di Hitchcock nodo alla gola non quello degli uccelli ma l'altro nodo alla gola e anche un altro film che si chiama anche questo compulsion perché è un un caso secondo me veramente iconico per tantissimi motivi la noia cercare cercare di abbracciare le loro più basse pulsioni e di dar sfogo alla loro sofferenza sofferenza che sicuramente era diciamo avvalorata e incrementata da questa forte sensibilità che caratterizza sicuramente le persone che hanno un potenziale cognitivo di questo tipo sensibilità atipica perché Nathan diciamo che arriva a razionalizzare la morte e la vita in una maniera puramente scientifica e teorica quindi arriva a equiparare la morte di un essere umano alla morte di un insetto e quindi cerca di utilizzare questa teoria filosofica per giustificare e per avvicinare le persone al delitto che aveva compiuto c'è l'aspetto del BDSM l'aspetto dell'omosessualità l'aspetto dell'aspettativa l'aspetto dell'aspettativa e il confronto con i fratelli perché entrambi subivano tantissimo questo confronto l'anaffettività familiare questa educazione disfunzionale ricevute dalle governanti in maniere diverse entrambi abbracciano questa cosa del super ego e non so in che maniera in che maniera sia più profonda se nell'uno o nell'altro perché cerco di spiegarmi meglio Nathan era il tipico sprezzante che sapeva di essere più intelligente di tutti gli altri perché ricordiamoci che lui era consapevole del suo cui e del fatto che fosse cioè un cui veramente clamoroso e questo lo poneva in una condizione di superiorità considerando soltanto questo parametro ma secondo me era anche consapevole di essere inferiore passatemi il termine su altri aspetti e quindi si pompava su quello che lo rendeva invece superiore Ricky faceva lo stesso aveva un ego veramente super fragile in realtà ma si mostrava splendido agli occhi altrui quindi è molto poi difficile vedere quale sia la la vera natura di queste due personalità perché sono molto duali sono tutto e niente sono vanno da un estremo all'altro vediamo proprio come questi due ragazzi abbiano tentato di dare sfogo a un dolore che nemmeno riuscivano a spiegare a razionalizzare perché non avevano nemmeno il diritto di provare tale dolore essendo multimilionari intelligenti e con tutto quello che avevano che volevano no buonasera scusa di ritardo passo per un saluto velocissimo voglio ringraziare grazie ciao Diana si Ren stasera ha fatto una bella subata generale non smetterò mai di ringraziarla Umbreon la deve smettere di continuare a grattare sulla porta dai Umbreon e quindi Nathan con la sua capacità orale e dialettica riusciva a equiparare in maniera teorica la vita umana alla vita di un insetto che aveva una funzione anche scientifica quindi l'interesse di Ricci era più improntato all'esecuzione del delitto perfetto mentre Nathan voleva diciamo questo è quello che ripeto diceva lui secondo me per giustificare e razionalizzare qualcosa di più profondo poi lo vedremo insieme ma il suo intento diciamo superficiale era quello di estrapolare il concetto di delitto e compiere un delitto che non avesse nessun movente non era così spoiler nessun movente nessun motivo un delitto insensato proprio perché doveva essere una sorta di esperimento scientifico che non aveva niente a che fare con il bello e il mare e con la morale no è Umbreon che cerca di entrare qui dentro quindi ora mi ero segnata qualche passaggio di questo libro che voglio leggervi Nathan aveva questo odio verso le donne anche perché era stato mandato in questa scuola femminile e gli era stato sempre detto che avrebbero voluto che nascesse femmina perché era l'ultimo di quattro fratelli maschi e quindi lui omosessuale abusato da delle donne insomma dalla governante in più odiava il fatto di essere maschio immaginate che cavolo di patatrack può succedere nella mente di una persona stavo guardando un attimo se mi ricordo qualche cioè se ritrovo qualche frase sì che poi Nathan avvicina sua madre alla figura della Madonna che assolutamente non c'entra niente proprio con la sua religione perché ricordiamoci che loro erano ebrei e Nathan odiava anche il fatto di essere ebreo perché lo poneva in una condizione di inferiorità verso le altre persone in quegli anni e quindi lui odiava se stesso e la sua famiglia anche per questo per questa sua condizione praticamente si dice che Nathan abbia detto la prima parola a quattro mesi e abbia fatto il suo primo passo a tre mesi assurdo sì e molti milionari e ragazzi veramente prodigio e Nathan si sente diverso anche da tutta la sua famiglia perché si sente e probabilmente era molto più intelligente di tutti gli altri e diverso è molto più atipico e quindi si sente diverso anche dal padre e dal fratello nonostante fossero tutte persone ovviamente molto serie e lui era ancora più serio intransigente e chiuso di tutta la sua famiglia e niente raga io per stasera direi di cioè che vi ho vi ho introdotto questi due personaggi e vi ho dato modo di ragionare un pochino secondo me su questi su queste due personalità veramente complementari che mi hanno subito affascinata tantissimo e la prossima volta parleremo invece del delitto il vero e proprio e vi racconterò che cosa che cosa fecero questi due e l'interpretazione che venne data nel processo dalla maggior parte anche degli alienisti e che viene data soprattutto in questo libro e poi nella terza parte parleremo invece nello specifico proprio del processo e parleremo anche dei risvolti filosofici non nicciani ma proprio riguardanti il processo che questo caso toccherà ditemi se vi piace anche questa incursione in america se volete anche più casi un po' più datati eccetera questo caso mi ha proprio folgorata e quindi avevo proprio l'esigenza di parlarvene e intanto vi ho presentato Nata Nerici i miei amichetti e niente spero che vi possa appassionare come appassionato me e che ci possa fornire degli spunti di riflessione interessanti raga mi raccomando andate su youtube e like iscrivetevi al canale e io vi mando un mega basone vi ringrazio di essere stati qui con me e direi già che oggi è venerdì settimana prossima possiamo fare direttamente la parte 2 quindi venerdì prossimo mi raccomando tanto vi aggiornirò sui social vi ringrazio tantissimo ciao ciao ciao